Sono contento di essere tornato. Poi la trattativa è nata sinceramente da un giorno all'altro. Mi ha chiamato il mio procuratore quando stava per giocare una amica e voleva col Pescara. Mi ha chiesto se voleva tornare qua, che era uscita questa situazione. Lui sapeva che là io stavo bene, ma visto che qua sinceramente mi sono sempre trovato bene, quindi questa la sento un po' come casa mia. Quindi l'ho detto subito di sì, la trattativa non è che ha messo tanto a farci e quindi sono contento. No, ho trovato una rossa bella, belli giocatori, un bel gruppo, quello è molto importante, soprattutto bravi ragazzi. Sicuramente è una rossa che dovrà lavorare insieme allo staff e piano piano vedremo per cosa siamo messi. A Verlino è una piazza che la conosco bene, la conoscono un po' tutti già, è una piazza calda dove la gente sente tanto questa maglia. Secondo me loro aspettano di noi, come hai detto te, che lottiamo partita partita. Poi è presto per dire per cosa dobbiamo fare o dove possiamo arrivare in questo campionato. Quindi piano piano, domenica domenica, vedremo cosa possiamo fare. Sì sì, quando è uscita, come l'ho detto prima, la possibilità di tornare qua a titolo definitivo non ho avuto dubbi, diciamo. Ho detto subito di sì e poi la trattativa è andata a buon fine. Sono molto contento di stare qua a titolo definitivo per altri tre anni. Il problemino al collo, no, è stato nella parte che abbiamo fatto domenica nell'allenamento, ho preso una botta, ho avuto un fastidio al collo che ancora non va via, quindi penso che sarà una cosa da due giorni massimo, quindi ora è ancora un po' bloccato, quindi faccio fatica a allenarmi. Poi rispetto alla posizione, sì, nella difesa tre ho fatto tutti i tre ruoli, sicuramente ho fatto quasi sempre il braccio sia da destra che da sinistra, ma sarò a disposizione di quello che vorrà fare il mister. Grazie a tutti.